c'è qualcuno che voglia di parlare qui siamo nei pressi dell'obitorio che voglia di dire il proprio nome? come sta? se ha bisogno di aiuto? non c'è nessuno potete sfruttare il vento o qualche rumore sottofondo matta mattona beh, è chiaro che non mi posso sentire ma in cuffia spesso ne ho la possibilità perché la vostra voce è molto sottile, infelebile proverò se scopro qualcosa di interessante, una richiesta di aiuto, torno per me è semplice arrivare qua vi auguro buona nuova vita un saluto, un abbraccio a Teresa se è in zona, come al solito vado dietro alla pazza del cane mio un abbraccio